Il giorno numero uno andiamo a fare i biglietti per il tram e tutto e poi dopo cominciamo a vedere un attimino la città e i musei Per lì è un po' storto Poi c'è un mobile, guardate un po' in giro Facciamo un po' un intro a questo giorno uno Che dobbiamo fare oggi? Allora giorno uno Sì vabbè ho capito l'ho già tanto io l'intro al giorno uno Aspetta c'è la cosa No perché noi non siamo abituati alla metro a Firenze Eh no al massimo abbiamo la tramvia Infatti quindi comunque parte questo giorno uno a Monaco Allora si va al Residence Pla Che è la residenza reale Eh sì esatto Accanto al teatro ed è proprio nel centro vicino alla piazza principale che è il Marine Place Marine Place Poi basta ma si torna a casa perché dobbiamo prepararci perché andiamo al teatro a vedere Matteo Questa è un'uscita a destra che è un'uscita a diritto Fa uguale Sono vari punti dell'anno E anche la signora mi sembra che non sia Dopo il carry on sono stato più o meno sette minuti Allora molto lento Troppo lento Secondo noi mezzo è rotto No secondo me doveva far così però ne ho visti di più carini Per esempio Non importa che per esempio intanto lo taglio Allora va che cari Allora va che cari Il museo della residenza Il museo vero? Sì è la visita di la residenza reale di chi è del re Fanno portare le macchine fotografici una cosa importante Però io mi sto sentendo un attimino osservato Da chi? E chi è questo qui? Ah boh C'è da leggere sotto Ci vediamo tra due ore Sto ripresa devo dire è molto interessante Già ridi? Che stai facendo? Mi faccio la sinistra Guarda che tavola Direi che questo posto da delle belle sorprese Entrano nel mondo di Arnia E qui andiamo a porto E almeno che è in Arnia E finalmente siamo usciti dalla residenza Adesso andiamo a vedere il teatro Oh bravo Il teatro della residenza Ok racconta la storia Non lo so la storia del teatro Non serve a niente Una volta che bisogna fare qualcosa di lungo Ci sarà scritto lì la storia Lo vedremo Vai Dai la zampa al leone Sì ma lì devi strofinare il museo Non fare cose strane Fa a me Un pochetto Non toppo eh però Ma non spoilerare non ce lo fa È già finito Io invece c'ho anche il papion stasera Per l'occasione Dai non ci fa lo spogliarello Allora ce lo fa lui No no io lo spogliarello Non lo faccio Sì sì No no Riprendimi Ecco fatto lo spogliarello Ma bu cosa? Non per le palle Dai stasera siamo i The Vip Stasera siamo a vedere lo schiaccianoci Ecco che è tutta questa bella eleganza Ciao 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 Ciao